Barzaghi, Barzaghi, la manovra della Juve è una manovra di disturbo, mettiti la crema, non fatti arrabbiare Marotta perché Marotta poi potrebbe fare come i tentativi goffi del Milan, mettiti, mettiti, mettiti la crema, Barzaghi, no, mettiti la crema, Barzaghi, tu pensavi che era un tentativo di disturbo, tutto a posto, Lukaku quindi viene all'Inter, quante minchiate che mi spari Barzaghi, quante minchiate, è di sicuro, ma quando si arrabbia Marotta e Osirio che cazzo fanno, lo state prendendo in quel posto molto probabilmente dai gobbi, quindi anche tu, un consiglio da uno che davvero di calcio probabilmente non capisco un cazzo però di pannolini, cremine, visto che ho la bimba piccola, ma ne intendo, quindi cremina fissa, spalmaggio rotatorio, pannolino e gavi scomperi, bruciore dello stomaco anche per te Barzaghi, invece di fare sempre quello sicuro di sé e quello che sa la verità e andare a giudicare sempre gli altri, guarda le cazzate che racconti e poi tu ti accanisci sempre col Milan, ma stai perdendo, attenzione, anzi no stai perdendo, hai perso, di seguito è, attenzione, il portiere Lukaku, l'altro portiere Onana, Skriner, Brozovic, Zeko e parli dal Milan parli, hai preso Bistecca, vuoi andare a prendere Trombino e poi che più, che più, che più, e poi hai preso Turam, pagato manco se fosse il padre eterno del cazzo, sì ci hai fatto uno sgarbo, ti anticipo io, però tu per farmi uno sgarbo l'hai pagato manco se fosse davvero, chi cazzo sarà? Poi hai preso Frattesi, Frattesi, avessi detto, a me piaceva, io al Milan ce lo volevo, però non è che hai preso Camavinga, da fare il fenomeno, adesso, è solo una manovra di disturbo, da parte della Juventus, goffa, va cagher, ma va cagher, te e l'Inter, sempre forza mia raga, pollice in su al benzinero, varzaghino, quante cazzate che tu dici, se vado a vedere tutti quelli che tu hai detto che probabilmente arrivano all'Inter, sai come, Longoni, dalla parte del Milan, per fortuna che ci sono io che ti tiro le orecchie, sempre forza Milan raga.